1, e vai 50, e destra 4 vai, e tornante destro, per tornante sinistro, 50, sinistra 3 chiude, 3 chiude, e subito il tornante destro, 30, e destra 4 lunga, e sinistra 4, destra 5 lunga, lunga lunga, e sinistra 2 lunga, 2 lunga, 30, e destra 3 lunga, 50, sinistra 5, 100, e attenzione sinistra 3 lunga, 3 lunga, 50, e destra 3 sporca, 3 sporca, e accenno sinistro, e bivio destra 3 sporca, bivio destra 3 sporca, sinistra 4, 20, e destra 4 chiude, e sinistra 3, sinistra 3 lunga, 50, e destra 4 lunga lunga, 4 lunga lunga, e attenzione sinistra 3, e subito tornante destro, e destra 4, inversione sinistra 1, inversione sinistra 1, sinistra 4, buona buona, e sinistra 4 lunga, destra 4, e accenno sinistro, e destra 3 lunga lunga, 3 lunga lunga, sinistra 3 lunga, 3 lunga, e destra 3, 3, uh, no no, l'ho lasciata solo 4, ah ok, sinistra 4 lunga, 30, e sinistra 4 lunga, e destra 6, e destra 5, e attenzione destra 3, attenzione destra 3, sinistra 5, sinistra 5, e subito sinistra 3, vai, lascia la corda, venga qua, 100, bravo, bravo, e destra 4, e subito sinistra 3 lunga, e destra 3 lunga lunga, sinistra 4, e destra 3 lunga, sinistra 4, sinistra 5 lunga lunga, 50, e destra 5, e sinistra 5 lunga, sinistra 5, chiude, 150, e attenzione salto, tieni sinistra, in sinistra 4, e destra 6, attenzione inversione destra 2, inversione destra 2, 100, sinistra 2 lunga, 100, sinistra 2 lunga, 50, e accenno sinistro, e destra 4, Grazie. Grazie.